allora buongiorno benvenuti in un nuovo video pare che qui stamattina stiamo a trovare i tartufi proprio sul bordo della strada roba bellissima proprio sul bordo della strada una porta vespa roba bella stanno fa proprio sulla bordo strada vediamo che non basta una macchina e rompeci le scato di nuovo proprio perché io non c'ho manco i guinzagli e adesso porca miseria qua luna qua porta luna